pace e bene cari fratelli e sorelle ben trovati solennità della santissima trinità che insieme all'incarnazione del figlio di dio è uno dei due misteri centrali della nostra fede cristiana quando parliamo di mistero non intendiamo dire qualcosa di cui non ci si capisce nulla ma qualcosa che ci è stato rivelato che ci supera e nel quale siamo chiamati ad immergerci infatti la santissima trinità non è tanto un teorema da sapere quanto un'esperienza da vivere in che senso nel senso che noi siamo chiamati ad immergerci nella trinità per mezzo del battesimo e crescere nell'intimità con le tre persone che sono un unico dio gesù stesso nel vangelo non si è dilungato e disperso nello spiegarci come funzionino le relazioni tra le persone della santissima trinità per carità cosa utilissima e buona nell'ambito teologico gesù molto più semplicemente concretamente ci ha parlato del padre ci ha detto che il padre è la sorgente di tutto che il padre ama follemente tutto e tutti che dona tutto nel figlio il figlio che accoglie quest'amore e vi corrisponde e in comunione col padre si dona per noi fino in fondo per la nostra salvezza e poi lo spirito santo l'amore tra i due che ci è donato e aprendo il cuore alla fede in cristo in abita l'anima del credente per mezzo del battesimo e ci immerge nella trinità ci unisce a cristo ci rende partecipi della vita di dio infonde nei nostri cuori la presenza del padre e del figlio e dello spirito santo è un mistero d'amore miei cari un mistero da vivere una testimone molto bella si chiama itala mela di la spezia a cui era molto affezionato anche papa paolo sesto ancora ragazzina si allontano da dio a 19 anni si convertì e ben presto raggiunse i più alti vertici della perfezione non è entrata in un convento rimase nel mondo ma senti il bisogno di emettere tre voti di povertà obbedienza e castità ai quali ne aggiunse altri due fare sempre l'azione più perfetta quindi con amore con perfezione con cura ogni piccola cosa e soprattutto vivere diffondere la verità dell'inabitazione della trinità nell'anima nostra devotissima alla madonna nelle prove più ardue nelle continue sofferenze è sempre stata contenta perché perché si sentiva immersa nella trinità e ripeteva a ritmo di respiro o trinità mio sommo bene tu sei nel mio tabernacolo nel mio cuore una preghiera molto semplice bella ad esempio è gloria gloria al padre e al figlio e allo spirito santo a volte ridotta la ciliegina a conclusione della decina di ave maria del rosario oppure come la preghierina così da dirampassant tanto per in realtà è un atto di lode meraviglioso breve e potente da pregare elevando il cuore e la mente con affetto a ogni persona della santissima trinità che lo ripetiamo è più intima a noi di noi stessi andando ai testi di questa domenica possiamo dire che ci trasmettono proprio la bellezza di questa esperienza in particolare la seconda lettura è il vangelo la seconda lettura è tratta dal capitolo 8 della lettera di san paolo ai romani e dice così voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo abba padre noi abbiamo ricevuto lo spirito santo che ci fa figli e questo spirito santo fa sì che noi possiamo rivolgerci a dio chiamandolo papà che mistero grande non un rapporto da servo a padrone da schiavo a padrone da stipendiato da torre di lavoro ma da figlio al padre allora noi con fiducia gridiamo papà e questa fiducia ci dà forza per affrontare le sfide della nostra vita e ancora di più dice ancora san paolo lo spirito stesso quindi lo spirito santo attesta al nostro spirito che siamo figli di dio e se siamo figli siamo anche eredi di dio coeredi di cristo cioè lo spirito santo ci dà la certezza crescente che siamo figli siamo figli di dio siamo eredi ci è dato tutto in cristo vedete qui ci ha annunciato qualcosa di meraviglioso lo spirito santo ci dà la certezza di essere figli non orfani non abbandonati in quella relazione profonda con dio vengono sanate le radici del nostro cuore spesso e volentieri infatti portiamo nel cuore vuoti d'amore desideriamo essere amati e finiamo per elemosinare amore tante persone sono così fragili e così segnate da vivere in una costante paura dell'abbandono necessitano di relazioni di sentirsi volute bene e non sono però disposte a tollerare a sopportare il minimo no la paura di sentirsi abbandonati qui è qualcosa di molto serio vivere la vita da orfani vivere la vita come se tutto fosse solo sulle nostre spalle vivere dovendo continuamente dimostrare di meritare un po d'amore elemosinarlo negli altri e arrivare a svilirsi vivendo da maschere non da persone pur di ricevere un po d'affetto lo spirito santo potenza d'amore di dio inabitando il cuore del credente incide progressivamente in te la certezza che sei figlio che sei amabile che sei profondamente amato questo avviene coltivando il rapporto con la santissima trinità questo vuol dire la preghiera vuol dire l'ascolto della parola di dio vuol dire l'incontro vivo con il signore nei sacramenti vuol dire camminare nella comunità cristiana vuol dire aprire il mio cuore a chi mi aiuta a rileggere la mia storia con occhi nuovi a percepire nella mia vita la tenerezza di dio che come una vena d'acqua profonda ha attraversato tutta la nostra storia e che se abbiamo radici profonde possiamo intercettare e quest'acqua è acqua viva che come in ezechiele è detto viene risana tutto ciò con cui entra in contatto allora la lettura di san paolo tratta dal capitolo 8 dice lo spirito attesta che siamo figli dall'esperienza di figliolanza vissuta da quest'amore che cambia man mano il cuore la vita all'esperienza proposta annunciata e trasmessa eccoci al vangelo l'invio del signore della chiesa dei discepoli gesù risorto glorioso che ricalcando le parole di daniele 7 dice a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra andate dunque fate discepole le nazioni battezzandole cioè immergendole del nome del padre del figlio e dello spirito santo insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato ecco l'esperienza che siamo chiamati a proporre immergere la gente nella trinità e da dove parte vedete papa francesco ha ricordato la testimonianza che diamo che siamo chiamati a dare la testimonianza bella è frutto della nostra amicizia e della nostra relazione con dio è un dono suo cioè noi siamo chiamati a parlare di quest'amore a mostrare attraverso le nostre parole gesti l'amore di dio la sua tenerezza la sua cura persone rinnovate dall'amore che sanno voler bene testimoniano qual è questa sorgente meravigliosa che tutti disperatamente cercano e non trovano allora gesù manda noi cristiani vi ricordate l'inizio del vangelo gesù chiama i discepoli perché siano pescatori di uomini è bellissima la missione della chiesa di ognuno di noi pescare la gente tirarla fuori dal mare del non senso da una vita vissuta senza né capo né coda cercando di arrabbattarsi mettere pezze e di colmare i propri vuoti affettivi ed emotivi in un modo in un altro tirarla fuori da questo mare immergerla in dio nel mare dell'amore quello vero questo vuol dire battezzare immergere nel nome nella persona del padre del figlio dello spirito santo che tristezza la gente che oggi si vuole sbattezzare come se non so fosse una sorta di timbro che t'hanno messo o così un rito d'appartenenza a una congrega no battesimo è quanto di più bello ci sia essere immersi in dio essere resi partecipi di lui poter vivere una unione profonda con lui ed ecco allora gesù ci manda a fare discepoli il signore ci manda a proporre a tutti l'esperienza bellissima del decentrarsi dello smetterla di pensarsi gli assoluti i maestri della vita le fonti dell'amore gli autosaccenti e autosufficienti e mettersi alla scuola dell'amore lasciarsi condurre da dio vivere da figli da persone che ogni giorno si pongono in ascolto di colui che è fonte d'amore maestro d'amore ci insegna l'arte vivere di amare dunque vivere non da presunti maestri ma da discepoli a far sì che le persone ed ecco allora il signore che ci manda ad immergere in quest'amore a fare discepoli discepoli dell'amore persone che non pretendono di essere l'ombelico del mondo la fonte di ogni sapienza e che non si ritengono la sorgente dell'amore ma che si lasciano insegnare da dio da gesù l'arte di vivere e di amare e insegnando loro a osservare ciò che vi ho detto ecco la vita cristiana che diventa mettersi alla scuola di cristo e vivere secondo le sue parole chiediamo davvero al signore che ognuno di noi possa con le parole con i gesti aiutare tanti a fare esperienza di quest'amore questa bellezza di questa potenza di vita che ci è comunicata e di cui siamo partecipi la vita stessa di dio che il signore vi benedica pace e bene a tutti